Indossare la mascherina per la propria ed altrui sicurezza è l'appello lanciato dal presidente dell'Anva di Salerno, l'associazione dei venditori ambulanti Ciro Pietro Fesa e mercatali della provincia di Salerno. Anche se nessuna ordinanza nazionale e regionale obbliga gli operatori mercatali all'utilizzo della mascherina protettiva, poiché ciascun banco alimentare è di per sé conformato con distanziamento di almeno un metro operatore cliente e responsabilità di tutti però soprattutto nei luoghi come mercati rionali dove ci sono più persone raggruppate utilizzare tutte le prescrizioni anticontagio. Le precisazioni arrivano anche dal comune di Baronissi che ribadisce dal punto di vista normativo che l'ordinanza regionale numero 49 che in prima istanza fissava l'obbligatorietà dell'utilizzo della mascherina per gli operatori mercatali ha cessato i propri effetti lo scorso 31 luglio. Il presidente dei venditori ambulanti Pietro Fesa fa appello al senso di responsabilità di ognuno invitando gli operatori che hanno contatto a meno di un metro con la propria clientela di indossare la mascherina per la propria sicurezza. Raccomandiamo ai venditori di alimenti soprattutto di utilizzare e far utilizzare i guanti per toccare frutta e verdura per tutti l'utilizzo del gel disinfettante per lavare spesso le mani specie quando si toccano i soldi. Ha rimarcato Pietro Fesa per scongiurare la diffusione del virus e di conseguenza le chiusure dei mercati. Io credo che è una cosa buona la mascherina perché ci stanno ancora un sacco di contagi però all'aria aperta come il mercato nostro credo che non c'è tanto bisogno come la vicinanza va bene però è una cosa buona perché ci stanno ancora un sacco di cose da salvaguardare come il covid-19 è pericoloso allora è meglio metterla la mascherina. I clienti come si comportano? No i clienti la maggior parte ce l'hanno la mascherina stanno ancora col pensiero del contagio eccetera però meglio portarla la mascherina. Dai numeri che si stanno registrando in questi giorni temete per i prossimi 10-15 giorni un'eventuale restrizione arrivando anche a una possibile chiusura? Sperando bene che non aumentano i contagi perché se no se ci mettono un'altra volta a casa la maggior parte del popolo italiano è finito. Troppo noi operatori di mercato lo diciamo anche ai clienti diciamo anche ai clienti che devono mettere la mascherina perché purtroppo i contagiati stanno aumentando e noi vogliamo tutelare prima noi e poi anche i clienti. A noi facciamo un'appello a tutti i nostri clienti che vengono qua a Torrione di mettere le mascherine che se no viene a fare la fine della volta scorsa che ci chiudono e noi non vogliamo questo anche se nella Campania noi siamo stati molto attenti questo è il discorso. Sì noi una mascherina di solito non lo facciamo toccare però purtroppo le persone fanno discussioni e vogliono mettere sempre le mani però noi usiamo la mascherina senza guanti perché i guanti secondo me sono inutili perché comunque toccano anche le persone e niente speriamo che passa presto questo virus che ci sta proprio atterrando anche non stiamo lavorando più come prima. Ai clienti pretendete l'utilizzo dei guanti? No noi non gli chiediamo i guanti chiediamo solo di non toccare molto la frutta perché comunque stiamo toccando altre persone anche la frutta si marcisce e poi la gente comunque ad occhio non la compra. Signora da più parti si chiede di prestare attenzione durante questo periodo di contagio aumentano stare attenti mascherine? È certo è normale per evitare di prendere il virus tutto normale. Soprattutto in zone come queste ai mercati dove c'è maggiore presenza di persone bisogna prestare attenzione? Sì sì certamente è così. Lei si sente tranquilla? A dir la verità noi facciamo il possibile disinfettiamo tutto puliamo tutto poi stiamo facendo la terra non sappiamo quello che ci aspettiamo. Quando viene al mercato modifica un po' i suoi comportamenti? Certo la distanza cerco di scappare quando si sta troppo vicini la mascherina è più di questa secondo me facciamo il possibile più di questa non possiamo. Da parte degli operatori mercatali nota che c'è attenzione per la sicurezza? Insomma insomma non troppo. Che cosa ha notato che lei ha un po' infastidita? Con le mani questo per esempio è un'eggine tutti tocchiamo oddio chi si lava chi non si lava le mani però. Più parti arriva l'appello a stare attenti soprattutto in aree come queste al mercato dove c'è sempre tanta gente. Sì è vero siamo sempre con le mascherine ci riguardiamo anche perché noi abbiamo a contatto con tante persone. Spesso si punta l'indice contro gli operatori mercatali che non stanno attenti a tante prescrizioni ma lei invece la clientela come vede che si muove? Parecchie persone senza mascherine come potete vedere. È capitato di richiamarne qualcuna? No noi no personalmente no quale ci lavoriamo ci stiamo noi attenti facciamo noi attenzione evitiamo di avere disguidi con i clienti. Lei che lavora qui al mercato di Torrione che impressione ha la clientela come si comporta? Allora ti dico la verità le persone rispettano la mascherina la distanza tra noi e si comportano bene perché è un mercato da tanti anni è bello così. Ovviamente bisogna stare attenti perché qualora si contagiasse qualcuno si rischia di chiudere completamente il mercato. Peccato però comunque è un peccato che una rischia queste cose.